Il cielo sull'autoscuola è diventato blu, il tavoliere è piatto ma lo innalzi tu, nell'autoscuola la tristezza non c'è più, si sente aria di vittorie che a tutti si vuole nella storia, che ne mi saprete non più. Questo è il testo originale, la Pausini l'ha scritto così proprio, prego, ci vuole ascoltare per cortesia, mi preparo per il festival di Santa Maria dell'Aude, il festival delle rosse e rosse, mi tieni vero? Possiamo sapere chi stava cantando questa canzone d'amore? Il nuovo CTO, doppia Z, Cattuzzi. Sì, da una settimana fa a parlare di Zeman qui, Zeman là e adesso... Finalmente però viene in tema il Foggi. Partita travolgente per lunghi tratti casalinghe. Si giocava a Foggi. Direi per tutti i tratti. Nel primo tempo, netta superiorità territoriale, quando all'improvviso interveniva il doppio palo di Carambola Rambaldi. No, senta, smettiamola o qualsiasi? Su, 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 su. Allora, se sa, la smetta. Comunque è o non è un ex del Fuggere? Ma chi se ne frega? Parliamo di... Vogliamo dimenticare i ricordi del passato? Ma volentieri, dimentichiamo. Vogliamo travolgere la storia patria Fuggere? Ma dimentichiamola. Distruggiamola. Ecco, esatto. Parliamo del Foggia di ieri. Foggia Gagliari. Sì. Nel primo tempo, per ravvivare il gioco, per rendere allegro il gioco, le squadre abbandonavano il campo. Ma cosa sta dicendo? E passavano direttamente nell'intervallo. Sì, ma quando è successo questa cosa? Approssimativamente al 45esimo del 1-2. Ma è normale! Ma vi risulta? Sì, ci risulta, è normale. C'è scritto nel regolamento. Nell'intervallo eravamo tranquilli negli spogliatoi. Io ti ho ingabrettato domenica scorsa, tu mi ingabretti questa domenica, ci ingabretti... Stavamo ribassando gli schemi. Con le regole dell'amore, va bene. Quando all'improvviso, all'improvviso, siamo noi. Cos'è? Cos'è? Siamo noi. Cos'è? Frengo. Siamo noi. Frengo. Ma allora, cosa è stato? Anticipando la grande sfilata con la collezione estate, estate, autunno, autunno, inverno, inverno, non c'è più la primavera? Ecco sì. Estate, autunno, primavera, autunno. Senta, Frengo. Autunno, estate, estate, autunno, inverno, inverno. Frengo, abbiamo capito, può andare avanti? All'improvviso, come un suono demoniaco avanzava, con tutti i mortari e i mortaretti. E arrivava la ribalta, arrivava la ribalta appesa a un gavo d'acciaio su una gru, un anonimo illusionista americano. Ma no, ma chi sarebbe? David Copperfield. Ma chi è David Copperfield? David Copperfield. È arrivato lì nell'intervallo. Aveva sbagliato l'indirizzo della bilocazione cosmica. E all'improvviso, nel panico generale dello spogliatoio, nel fuggi-fuggi generale, dosteggia-schiffer, dosteggia-schiffer-schiffer-ma-bigghi, arrivava incompatibilità a Catuzzi. Ma come incompatibilità? E gli diceva, oh, David Copperfield, strato fermo. Proprio qui dovevi sbagliare bilocazione, gli diceva, piglia burate, burattina, modelle, molettine, fuggi-ra-foggi, mo-po-foggi, ma-pi-fuggi. Vabbè, parole dure, direi, quelle di Catuzzi. Fuggi-ra-foggi, no-po-foggi, ma-pi-fuggi. Sì, l'abbiamo capito, vuole ripetere ancora? Quindi l'ha cacciato. Nel secondo tempo... Non ci risponde mai oggi, questa è la caratteristica. Nel secondo tempo, la magia lasciava il posto alla cruda realtà delle tangibili mazze. Sì, vabbè. Delle tangibili mazze. Abbiamo capito. Mazze, 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 mazze. Vabbè, abbiamo capito. Bresson, primo mazze. No, chi è Bresson? Bressan. Bressan. Si chiama Bressan. Sì, si chiama Bressan. Non è un anonimo. No, non è un anonimo. Bressan, il secondo mazzat. Sì, è vero. Doppio mazzat, vogliamo, vogliamo per lo scudetto, altro che David Copperfield. Senta, ha raccolto dei pareri in tribuna. Hanno detto in tribuna stanno questo oggi. Oh, sentiamo. Sì. Hanno detto, Catuzzi. Che cosa? L'allievo supera il maestro, grazie a Simbattia. Vabbè, insomma, sono frasi così, che lasciano il tempo che trovano. Zeman, senti mio caro Catuzzi, fammi una cortesia e state scende. Ecco, beh, sì, giusto. Anche questo. Leggera polemica. Catuzzi, che non mi ha saputo una buata da Marmolute? Cami ne va a te. Zeman, oh, mocava una mazzetta dove? Catuzzi, oh, ricchi e ciucci. Zeman, oh, ricchi e bella fa. Senta, per cortesia, una polemica è scoppiata. La salutiamo. No, 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 no.